È di Petrit Keci, un albanese di 30 anni, clandestino ma domiciliato ad Alba Adriatica, il corpo ritrovato ieri in contrada Fonte Pezzana. Il giovane che si divideva fra la cittadina vibratiana e Roma, aveva precedenti per furto e ricettazione, reati commessi sia nella capitale che nella vicina Alba Adriatica. Nessun legame, almeno in apparenza, con bande di clandestini impegnate nel traffico di droga e prostituzione. Sfumerebbe dunque la pista di un delitto in perfetto stile mafioso, cioè di una sorta di regolamento dei conti fra bande rivali o addirittura all'interno dello stesso clan. Per comprendere le ragioni dell'omicidio, che ancora oggi ha tutti i contorni di un giallo, i carabinieri della Compagnia di San Benedetto stanno ricostruendo l'esistenza del giovane albanese in modo da avvalorare o affossare definitivamente l'ipotesi del regolamento di conti. Per il capitano Giancarlo Vaccarini sono ancora da stabilire le cause della morte dell'uomo, cause che potranno essere accertate solo lunedì mattina dopo l'autopsia effettuata dal medico legale Claudio Cacaci. Bisognerà capire se il giovane clandestino è stato ucciso da un colpo di pistola o con un corpo con un dente prima di essere dato alle fiamme. Stando alle indiscrezioni, gli investigatori sarebbero già sulle tracce degli autori dell'omicidio. A trovare il corpo semicarbonizzato dell'uomo sono stati i proprietari del casolare che ieri mattina alle 9.30 hanno subito allertato i carabinieri. Ma pare che l'omicidio risalga lo scorso weekend, un delitto con poche certezze su cui probabilmente si saprà qualcosa in più solo nei prossimi giorni.